ciao a tutti ragazzi benvenuti sull'eleking tv si è appena conclusa la partita delle nostre azzurre tra italia e georgia goleata ragazzi per le nostre azzurre veramente brave 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 ci stanno dando tante soddisfazioni dal mondiale adesso stanno giocando le qualificazioni agli europei 2021 di calcio femminile e hanno vinto 6 a 0 ragazzi 6 a 0 gol della linaria al decimo minuto guagni al venticinquesimo girelli al ventisettesimo sabatini al trentaduesimo al quarantacinquesimo e rosucci al cinquantaduesimo queste sono state le calciatrici che sono andate a segno in questa partita poi ci sono ragazzi le statistiche che dobbiamo andarle a vedere perché è stata veramente una partita di quelle esemplari è vero che la georgia non è questo granché a livello di nazionale soprattutto di calcio femminile però ragazzi era è anche ultima in classifica del girone 54 tiri per le azzurre di cui 11 importa un tiro soltanto di cui importa sempre uno per la georgia 78 per cento di possesso palla per le nostre azzurre brave 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 siamo orgogliosi di voi mi raccomando continuate così vi vogliamo vedere qualificata al più presto per euro 2021 l'italia adesso nel girone è momentaneamente prima in solitaria perché la danimarca deve ancora giocare se la danimarca vince la danimarca che poi è una delle nazionali più forti a livello di calcio femminile se la danimarca vince ci raggiunge a pari punti se non sbaglio stiamo a 15 punti la danimarca arriva a 15 punti con noi ragazzi per questo è tutto ho voluto portare anche il calcio femminile sul canale vorrei continuare a portarlo fatemi sapere voi sotto nei commenti cosa ne pensate vorrei portare anche la serie a di calcio femminile con i vari commenti sulle partite e via dicendo vediamo se ci riusciamo ci proviamo ragazzi perché secondo me è molto importante dare spazio anche alle ragazze del calcio perché se lo merito ovviamente tantissimo seguiremo in primis penso la roma di calcio femminile cerchiamo di seguirla un po più spesso ma seguiremo anche tutte le altre squadre come facciamo anche con la serie a ragazzi vi saluto ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti